Presidente, innanzitutto possiamo dire che la trattativa comune è saltata definitivamente? Sì, è saltata. Perché? È saltata, non capisco i motivi, perché la documentazione che è stata consegnata alla Tarros, ok i debiti ci sono come qualsiasi altra società del tantistica, però la documentazione è in regola. I riscontri con le fatture, gli strati di conti bancari, eccetera, sono perfettamente in regola. Quindi consultabili da chiunque li voglia vedere. Lei comunque conferma che la società è in vendita? Sì, sì, la società è in vendita. Ha altri acquirenti possibili? Ho due persone interessate, faremo gli incontri questa settimana e cercheremo di concludere.